Come sapete, noi siamo impegnatissimi anche sulle filiere agricole. Io voglio ricordare sempre in queste occasioni che un allevatore di bovini prima di tutto è un agricoltore. Quindi noi siamo a fianco del mondo agricolo per mettere a disposizione la nostra tecnologia, la nostra esperienza per unire le forze perché gli scarti della filiera possono essere valorizzati in una vera circolarità a beneficio del suolo, delle nostre culture, dei nostri bovini. Noi siamo impegnati a supporto di molte aziende agricole, sia come proprietà delle stesse, sia con partecipazioni importanti, siamo in piattaforme europee, stiamo lavorando a strettissimo contatto con il mondo agricolo, in particolare anche con Confagricoltura perché vogliamo essere, per quanto ci sia possibile, un riferimento, un aiuto perché insieme questa filiera possa assumere il valore e continuare ad avere il valore che ha per l'agricoltura italiana, per la zootecnica italiana, per l'agroindustria italiana, un valore elevatissimo. Grazie per la visione!